Voi non avete capito niente, io ho portato tutti i brawler, guardate, quasi 4-5 brawler a grado 20, peccato per Bull che l'ho un po' schifato, oggi ho portato anche molti brawler, oggi ho fatto una partita con NIT, l'ho portata tante robe al grado 10, non vedete, e sono riuscito ad arrivare alle 7.000, allora abbiamo 22 cassette, 2 casse enormi e una mega cassa, potete vederla, che bella che è, allora iniziamo dalle cassette, 5-5, ho fatto i cartigli eh, oh quanto eroso sei, buone per essere una tavola, e anche un cacciardo, due macchine, già noi fissia un indietro, che fame, adesso 20, 2 scacce, うん berri, periziavamo noi, è 1-50, 4-8, Buono 14 8 gemme Anche se non lo uso non lo uso Tedda Tixi Put brother Gemme Per il mio Stard 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 Gemmi Allora siamo alla metà No non siamo alla metà Quando siamo alla metà Oltremmo la metà Allora lo userò mai più 10 Allora 23 5 6 6 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 10 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 18